Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono sempre il vostro tacco di l'aula e oggi scusate ragazzi prima di tutto se diciamo di questi giorni ho fatto video che mi sono sentito davvero male se mi vedete un po' cambiato perché oggi sono state tre ore fa mi sono tagliato la pelle e ragazzi non sono stati non male, sono soltanto piatti, non ve ne fanno insomma allora questo è un video per tutti quegli altri e infatti questo è il nostro primo vlog ragazzi il nostro primo vlog ricordatevelo sempre e allora vi volevo dare delle offizie allora intanto come vedete ho cambiato un po' luogo per fare vlog, lo farò nel mio salotto già mai il salotto è casa mia e quindi poi vi volevo dire allora volevo sapere perché di sicuro io la farò però volevo sapere anche il parere vostro se vi sarebbe piaciuta io facessi una serie di minecraft per il pc così almeno insomma viviamo un bel survival insieme ci sarà anche da questo comunque poi volevo sapere anche se vi sarebbe piaciuta se vi facessi una serie di osso di di butterfly 4 che a me quel gioco mi piace e poi vi volevo anche dire che non è questo diciamo che non è un blog cos'è questo cazzo di roba ok diciamo che non è un blog come tutti quegli altri perché il blog sarebbe tipo da lì ne so l'inghilterra da lì a di là se sentite scoppiattare il mio cammino bene e allora ve le volevo dire anche un'altra cosa con la scuola andrò al lago di bolsena e non so che non è non è che è londra però volevo sapere insomma io sentirò le professoresse se potevo fare questo blog questo blog questo blog per voi quindi ragazzi niente questo sarà un blog cortissimo era solo per dirvi queste notizie quindi ragazzi come sempre se il video mi è piaciuto come alzate lasciate un commento mi piace anche sulla pagina di facebook e come al di video trovate la descrizione se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie